Noi arriviamo anche alle proteste lecite ma estreme di legarci anche agli alberi, incatenarci. C'è già stata una proposta su Facebook e tanti cittadini hanno detto ci sono, ditemi quando ci sono, ci sono, ci sono. Disposti a tutto per salvare i platani, anche secolari di via Bissuola Mestre. Intanto la petizione via social contro l'abbattimento degli alberi in questione ha già superato quota 2000. Firmatari che si dicono contrari a quanto sembra sia stato deciso a tavolino dall'assessore alla mobilità Renato Boraso e dal presidente della municipalità Vincenzo Conte, ovvero abbattere una decina dei platani lato Istituto Berna fino a via Baglioni. Più o meno la zona è questa insomma. Zona scuola? Zona scuola, sì sì sì. Poi lei diceva comunque che sarebbero da sistemare anche i tombini, perché? Sì, allora è un problema grosso anche di questa strada, me ne rendo conto che giro in bicicletta anch'io, ci sono dei tombini che sono all'interno diciamo della pavimentazione, dell'asfalto e quindi chi in bicicletta passa davanti a questi tombini deve scartare per non impuntarsi con la bicicletta. E andare in strada? Esatto. Con gli studenti ciclisti che rischiano di essere investiti eppure a loro volta a causa di incidenti per via del dislivello dei tombini, riconosciuto il problema di sicurezza sulla strada dagli ambientalisti, che prima di dar vita alla protesta, attendono l'incontro con la municipalità per proporre soluzioni alternative alla pista ciclabile che nessuno tra i cittadini vuole. Noi aspettiamo, perché dovremmo avere anche una risposta da parte della municipalità soprattutto, se questa ipotesi di abbattimento dei platani prosegue oppure se si ferma. Ma qui vista anche la protesta cittadina, perché in realtà non ci sono state solo le associazioni, tipo Amico Albero, Mestre Mia, che hanno un po' lanciato il sasso. Per ridurre la velocità dei veicoli a 30 km orari, già avviata con i lavori in corso, l'installazione dei dissuasori. Tra le proposte anche gli autovelox e cartelli in prossimità delle scuole recanti l'avviso di attraversamento studenti. Qualora nessuna di queste proposte venisse presa in considerazione, allora si darà avvio al conto alla rovescia per la grande e declatante mobilitazione. C'è la cittadinanza che risponde, quindi diciamo, siccome è il 90-99% sono tutti favoribili.